E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ma soprattutto benvenuti in una nuova stagione della serie A 2024 2025 Eeeh E se ne va Vai, 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 vai via Signori, più carichi che mai E' inglese o spagnolo? Il primo di cui move è gay Scusami Signori, come al solito non c'è modo migliore di inaugurare questa serie A se non con una bellissima Rigori Challenge ad eliminazione Signori, abbiamo tutte le squadre della serie A New Entry e chi c'era già anche nell'anno scorso Quest'anno ci sono delle squadre nuove che andremo a presentare al primissimo turno E con le nuove maglie soprattutto Fateci sapere nei commenti qual è la vostra maglia preferita E se vi piacciono questi video sulla serie A potremmo andare a realizzare altri contenuti sempre sulla serie A Signori, facciamo entrare il portiere d'eccezione Oh, lui Che ha vinto il premio miglior portiere della YouTuber Summer Cup Simone Benchini Ehi, 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 ehi Siamo tutti al completo Direi che possiamo iniziare queste Rigori d'eliminazione Let's go Partiamo subito ragazzi con questo primissimo turno di queste Rigori Challenge ad eliminazione Facciamo subito entrare a fare l'esordio l'Inter Campione in carica Bello questo maglietto, che l'hai preso? Eh, da The Pitch Eh, ragazzi, la qualità è The Pitch Se volete anche voi acquistare maglie e prodotti da calcio Mi raccomando, passate link in descrizione Mi raccomando, se sbagli, sei già automaticamente eliminato Eh, sì Primissimo turno, chi sbaglia è automaticamente eliminato E allora È un riscaldamento ragazzi, non posso fare di merito Tocca a me L'anno scorso è arrivato il secondo Quest'anno riuscirò a fare bene Non ti preoccuparti alla panchina Se è quel tuo Guardate e imparate come si calciano i rigori Eh, adesso vediamo Adesso torno fuori Ed è così che si fa Adesso, signori, sta ad un'altra Che quest'anno ha fatto fuori tutti nella Rosa Che succede, Juve? 13 giocatori, Rosa, dai Mi hanno chiamato, mi hanno detto Pippegone, ci servono dieci Ma secondo me quest'anno la Juve è l'elettrocello Mi hanno offerto 27 euro Sì? La settimana Ah, ho detto di no Ne voglio 30 No, creditor lab Creditor lab No, no, no Ma hanno detto proprio Devi stare in mezzo al campo a posto di Hildizken Vecchio, vai in porta No, vai in porta Grazie a te Fammi vedere come te la cavi ai rigori Juve Buone Rube Allora la Juve La Juve E' co Pronto Complimentoni alla Juve Proseguiamo col prossimo Prossima squadra La più sexy La più sensuale Di Youtube Italia Prego, prego Signorina Atalanta Oh 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 Come dire, come dire Oh 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 Sei pronta Vai 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 Fagli il culo L'unica donna in questa challenge E allora Atalanta Segna E passa Anche lei Signori Adesso Sta ad una squadra Signori Che è andata In Champions League Ha fatto un campionato assurdo E quest'anno Ha venduto Tutti i suoi migliori giocatori Bologna Ritorcederà No Sto scherzando Forza Bologna Signori Il boss della tecnica A rappresentare Il suo Bologna Allora il boss Di Trabone Segna E passa La primissima Qualificazione Di Champions League Bene ragazzi Arrivato il turno della Roma Speriamo di non essere Prima a uscire Ma può capitare Quindi Vediamo Attenzione Parte Sergio Spiazza Peco Quindi passa Anche lui E si presenta La Lazio Sul dischetto E' andato via Immobile Ma E' andato via Immobile Ma chissà Signori La Lazio Clamorosamente Eliminata Non ci saluta Nemmeno Perché è troppo Delusa Quindi andiamo Avanti Adesso Una squadra Che si è rinforzata Veramente Tanto Ha Forse fatto L'acquisto Del campionato Moise Ken Attenzione Parte La Fiore Segna Signori E quindi Si qualifica Anche lei Ed è già il turno Del Torino Vediamo Se riuscirà a fare meglio Dell'anno scorso Parte Il Torino Signori Traversa fuori Clamoroso Torino Eliminato Andiamo avanti Perché adesso Sta il turno Del Napoli Ci penso io Marte Il Napoli Siamo anche io Sfortunata Ragazzi Clamoroso Ma che succede Napoli Eliminata Sono il Genova Per questo primo turno Ci crede Come 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 Tocca a te Ed eccola qua Un'altra squadra Di Milano Signori Il Monza Parte Il Monza Ma che tiro è stato Ragazzi Mancava così E quindi Anche il Monza Ci saluta Il Verona Non ha bisogno Di presentazioni Il Verona Morbido Morbido E passa Anche lui Ed ora Signori Facciamo entrare Il Lecce Lecce è fortissima Ah Allora faccelo vedere Oh Attenzione Parte il Lecce Incredibile E dunque Ora Sta All'Udinese Udinese Calcio Attenzione L'Udinese Fuori Anche L'Udinese Signori Clamoroso Manca Colei Che si è salvato Per ultimo In questo campionato Attenzione Ed è Il Cagliari Signori Era finito il budget Era finito il budget Essendo che Ci siamo salvati all'ultimo Abbiamo speso tutto Per i giocatori E non c'è più le maglie E allora Cagliari Attenzione Mamma mia Gran parata Di Simone Pecchini Che valla Ma c'è un portere più forte di lui? Scrivetemi nei commenti Dai Ed ora Sta ad un altro squadra Che è riuscita a rimanere in serie A Signori Empoli 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 Può partire proprio lui Attenzione Emanuele Emanuele Ragazzi come si commenta Questo rigore Come si commenta Questo rigore Signori Fuori Empoli Fuori E allora signori Facciamo entrare Una neo promossa Di questa serie A Siamo pronti Viene Vicino a nostre parti Nuovo e vecchio acquisto Adriano Signori È tornato al Parma Il Parma Una rincorsa sempre sobria In Parma Spiazza Peco E passa anche lei signori Adriano Ragazzi ora tocca al vero Adriano Papa Blu Questo gol è per te Attenzione Parte il Venezia Che segna E si qualifica anche lui Adesso abbiamo l'ultima squadra signori Quella con più soldi Quella con più soldi Ma con meno soldi È un po' un Un controsenso Come la va O come la spacca Come la spacca Allora spaccalo Dai Spaccalo Dai Spaccalo Va bene signori Io stavo bevendo Perché sono 50 gradi Lui intanto ha calciato Bravo Eccoci qua ragazzi Ora Nessuna difficoltà Ma Se uno sbaglia E quello dopo segnerà Automaticamente Eliminerà Chi ha sbagliato Detto questo Direi che possiamo proseguire Questa di Goriciana In eliminazione Let's go Inter Parte Inter Se segno io È eliminata l'Inter Per mettere un po' di pezzo Ovviamente E allora Ho una responsabilità Veramente grande Perché potrei Eliminare l'Inter Una volta per tutte Mamma Signori Forza Dov'è l'Inter È successo Non l'ho visto Non l'hai visto Venite qua ragazzi Venite a dirgli cosa è successo Andare a caldo Andare fuori A casa È uscita l'Inter Adesso tocca a me Zero pressioni Zero pressioni Oh cammina E allora Parte la Juve Nooo Sei consapevole che rappresenti la Juve Ma io tanto sono tranquillo Perché dopo che ha chiesto e calcio Atalanta Nooo Atalanta Scusa Non c'è rischio tranquillo Fagli vedere Tu lo puoi eliminare Per eliminare la Juve Io prima volta che lo vedo Oh Pauro mia Cosa dite Andiamo ancora di Arabona Assezione Parte il boss E quindi Ora sta nuovamente Alla Roma Parte Sergio Traversa signori Traversa La Fiorentina Potrebbe eliminare la Roma La Fiorentina Dove l'ha messa E come ha calciato signori Per rivendicare il Pipega Con i suoi occhiali tattici Dovrò fare questo gol Romerzo Pinto Per il Pipega Per la Juve Che è stata eliminata Attenzione E quindi segna E non rischia L'eliminazione signori Ora Lella Svelona Parte Puoi andare Parte il Parma Cosa ha tolto Dalla ragna te E quindi Venezia Hai l'occasione per eliminare Niente Eliminiamo il Parma Adrien elimina Adriano E allora Tagliate Adrien La Macumba Calma Calma Para Peco Ora sta il Como Per eliminare il Venezia Allora Il Como Per eliminare il Venezia Clamoroso Peco ma che fai Venezia Eliminata Ecco le squadre che sono rimaste in gara Atalanta Atalanta Fiorentina Milan Parmalat Bologna Come E Lecce signori A grandissima sorpresa E allora sta a me signori dare inizio a queste danze Lea ho preso su Temu Attenzione Oh Scusate Non è vero Non è vero E allora per replicare il mio gol L'Atalanta Dino Luca Ecco L'Atalanta Dino Luca Eliminazione Di retta La Sofia E' stata eliminata Perché ha sbagliato il rigore Questa è La difficoltà aggiuntiva Che abbiamo messo in questo turno Ora sta a te boss Non è solo un semplice rigore E' anche pesante E' abbastanza Però come vi ho accedato prima Adesso guardate Tirabona Dino Luca Piazza Peco E passa anche lui E facciamo calcio signori E ora sta la Fiorentina Dino Luca Grandissima parata E quindi la Fiorentina Ci saluta signori Non ce n'è Buona Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Genova Dai fammi vedere Dino Luca E allora Dino Luca Fuori Sbaglia anche lui E qui Fuori Genova eliminata Avanti il prossimo E non è un prossimo Ragazzo scontato Perché stai facendo bene Fino a qua Stai facendo bene E allora Il Lecce Io ragazzi Non so cosa ha il Lecce Ma è buggato signori Pallone d'oro dei bambini Posso fare di meglio Dai E allora il Parma Sta di nuovo al Parma Grandissimo gol del Parma E ora sta il Como E allora l'ultimo partecipante Di questo giro Como Ma Como la para Mi dispiace È stato un bellissimo benvenuto Ma vai via la serie Dai via Ragazzi siamo rimasti solamente in quattro E questa è già una finale Signori Bologna Lecce Parma E Milan Ma io e te Come facciamo ad essere qua Non me lo chiederemo a me Ora Chi sbaglia È fuori Si calcia normale Via le difficoltà E si va a raffica Bisogna testare la qualità E allora Sta a me Stai a me Boss Prego Lo conosci Pecco Fuori È stato un piacere Signori Bologna Fuori L'amoroso Tutti di Rabona E anche questo purtroppo Non è andato bene E quindi Ti sei? Che fare? Ti sei? Non succede Ma se succede Ma se succede Ma se succede E ora sta al Parma E ora sta al Parma Vado Allora Isaac Per passare anche lui Per passare anche lui Versa Non è gol E quindi finale Tra me E il Lecce Signore Che vinca il migliore Che vinca il migliore No pressure Sai che ti fiamo tutti per te Un po' Un po' Ce l'hai un po' Onora questo ragazzo Ma tu sai chi sono io? Lo scarso Personalità Personalità Ciao Dai Grazie Prego Attenzione Questo rigore pesa Non pressione Non pressione Ha segnato Ora sta a me Pressione Di nuovo lì Oh becco Ormai lo conosci Se vinci ti faccio del riso Con il pollo Attenzione Ma raga E la pressione sale Che non può perdere La pressione sale Ma la qualità Rimane Signori Non è No Stiamo vedendo raga Dai 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 Sto ragazzino Ha personalità da vendere Quando gioco si fa duro I duri Iniziano a giocare Wow Capisci La personalità Fammi vedere che personalità Pur sempre un bambino Di 2 risani Calma Non c'è età che tenga Non mi interessa Mi ha spiegato Guardi Attenzione No Se faccio qua È finito Ma se vuoi La posso battere Mentre ti ti guardo Va bene Facciamo così No 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 Ci sei Mentre guarda lui Negli occhi Signori E finisce qua Questa Splendida Rigori challenge Signori Facciamo tutti un applauso Per la fine di questo splendido video Io farei complimenti al vero vincitore Quante ne hai Quante ne hai C'ho 10 anni Ma ci credi o non ci credi neanche tu Ragazzoni Mi raccomando Seguite tutti i personaggi qua in questione Perché c'è stata tanta qualità in questo video Tantissima qualità Ragazzi a partire da Simone Peco Perché è stato sotto il sole A parare tutti questi tiponi Auguri Peco Auguri anche a tutti Auguri 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 Commentate chi vincerà la Serie A quest'anno Ci vediamo con un altro video sulla Serie A Fatemi sapere cosa volete vedere Da Opsamone è tutto Dall'MSP è tutto Let's go